ci siamo noi ci riscaldiamo lui è roberto degli carri il number one e 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 ciao che bella esercitazione mi uccide mi uccide ciao mamma che caldo bene facciamo un altro esercizio e poi vi salutiamo vuoi ancora si ma 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 no ma no no ma 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 ok da qui a tutto questo uomo è un mito io l'adore un bacio a tutti ciao ciao